Buongiorno, benvenuti a questa diretta per la rassegna stampa di questa mattina dei giornali di martedì 20 febbraio. Oggi su tutti quanti i giornali la notizia fondamentale sono i 500 licenziati della multinazionale brasiliana Embraco, che in realtà è una controllata dell'americana Whirlpool, quindi il nome e cognome non è tanto Embraco, ma è Whirlpool che decide per Embraco e Embraco decide per l'Italia. Allora, vedete qualcuno di voi nel passato mi ha detto, ma Nicola perché non fai politica, perché non ti candidi alla regione come qualcuno diceva, perché non ti candidi? Sapete perché non mi candido? Perché voglio dire le cose che sto per dire in questo momento e sono cose per le quali probabilmente il 90% delle persone mi prenderebbe a schiaffi, ma io non punto al 90% delle persone, punto al 10% della popolazione che ragiona, liberale e spero che una gran parte sia tra di voi. E quello che sto dicendo è questo, ci stiamo scandalizzando perché 500 operai, oggi c'è Gramellini che parla di questa coppia di operai che non può pagare più il mutuo, che si sono appena sposati e che quindi non capisco perché la borsa non ragiona, dovrebbe ragionare per quanto siano felici gli uomini, non per quanto siano felici le aziende e le azioni. Va bene? Allora, tutti quanti si scandalizzano per questi 500 licenziamenti che farà l'Embraco. Ne ritornerò sopra perché oggi nei giornali, soprattutto Repubblica, ne parla bene della storia di questa società a Torino. E nel frattempo è meno rilevante il fatto che ci sono migliaia di commercianti che hanno chiuso i negozi di prossimità perché ormai le la mette da barba e le compriamo su Amazon. E meno fondamentale le migliaia, non 500 persone, di librerie che sono chiuse negli ultimi pochi anni perché Amazon ti porta a casa i libri, ma adesso non soltanto i libri, e i piccoli negozietti per cui c'è Amazon Prime. E ci sono qualcuno che si è scandalizzato per le migliaia di giornalisti che non lavorano più o che lavorano a 20 euro a pezzo su internet, 20 euro se va bene, a internet perché oggi tutta l'informazione passa gratis per Facebook, per questa roba che sto facendo io. Qualcuno se ne è mai preoccupato? E no, non se ne sono mai preoccupati. E delle piccole imprese italiane che sono vessate dalle tasse e non possono parlare con Calenda e semplicemente chiudono e licenziano i loro 10-15 collaboratori a cui tengono come i loro figli e non come i dipendenti dell'Embraco che sono dei numeri in una multinazionale. Qualcuno se ne è occupato. Non è che voglio dire che Embraco non sia un problema, ma voglio dire che ci svegliamo oggi sul fatto che oggi tasse, costo del lavoro, contributi, incapacità burocratica di questo paese rende difficile fare imprese in Italia. Se se ne accorge una multinazionale che è esposta in Slovacchia facciamo i tavoli, ma invece se se ne accorge l'Italia come se ne accorta negli ultimi 20 anni, negli ultimi 15 anni, negli ultimi 10 anni, caro Ministro Calenda, oggi non se ne occupa nessuno. Voglio andare avanti. Nelle stesse crisi di impresa, oggi le ricorda Repubblica e il Corriere della Sera mettendole tutte le crisi al COE, ce n'è una fondamentale che riguarda non 500 persone, 14.000 persone di cui già 2-3.000 hanno perso il posto di lavoro e si chiama ILVA e sapete da cosa nasce il problema dell'ILVA? Da un magistrato. Da un magistrato che ha scippato l'ILVA ai legittimi proprietari che si chiamano RIVA, gli ha dati ai commissari che in tre anni hanno perso quanto ILVA guadagnava in un anno, certo inquinando, ma i commissari non hanno fatto di meglio, anzi hanno continuato a inquinare esattamente come facevano prima i RIVA. In più hanno chiuso un alto forno che per riaccenderlo ci servono 100 milioni di euro, quindi già lì perderemo 10 volte, se va bene, all'ILVA, le persone che riusciamo a perdere soltanto l'Imbraco. Lì il problema non è della Slovacchia, lì il problema è di un magistrato e di una burocrazia tarantina che ha in maniera ottusa, con i comitati locali, fatto sì che si chiudesse quell'azienda, di fatto. Quanti imprenditori, ricorda Rodolfo, ci sono uccisi per denunciare la propria impossibilità di lavorare in questo paese e oggi ci raccortiamo che c'è Imbraco. Vado avanti perché Imbraco poi c'è anche una sua specificità e la sapete qual è la specificità? Che sono 15 anni che l'aiutiamo con i soldi dei contribuenti, quindi aumentiamo le tasse a tutti gli italiani per aiutare una multinazionale a rimanere in Italia che dopo un po' se ne va via. Ci abbiamo provato nel 2014 con una decina di milioni di euro pagati dalla regione che tra l'altro è in fallimento e dagli enti locali. Non sono bastati perché le aziende non si tengono con dei piccoli sussidi, si tengono con un sistema paese che funziona, con una legislazione del lavoro che funziona, con una legislazione fiscale che sia normale. Ci arriviamo che non serve domani dai due milioni per riqualificare un'azienda che fa processori, compressori per i frigoriferi. Ma di che cosa stiamo parlando? Claudio, il magistrato di cui ti parlo si è candidato per rifondazione comunista? Perché questo poi avviene, che i magistrati fanno le inchieste, non le finiscono, non c'è neanche una condanna e poi i magistrati si candidano per rifondazione comunista. Perciò quello che vi voglio dire, la pena per persone che perdono il posto di lavoro è enorme, ma qui c'è soltanto un problema, che sono solo più visibili. Sono più visibili dei migliaia, centinaia di migliaia di invisibili che hanno sofferto come Embraco, ma che nessuno se li caga. Nessuno! Nessuno! La partita IVA che fa le fatture e che alla fine del mese fa 600-700 euro, che non l'ha mai avuto un lavoro stabile e continua a non averlo e non lo avrà mai, non parla con Calenda. Allora, quindi il tema non è tanto risolvere il caso Embraco, risolvere il problema per cui in questo paese o reggiamo una fiscalità competitiva o siamo morti, morti, va bene? Comunque, l'intervista a Calenda dice che questa è Gentaglia, è la stessa Gentaglia però, caro Calenda, è quella che voi alimentate negli ultimi anni, non certamente Calenda che è uno dei pochi ministriabili di questo governo. Insomma, Gentaglia, quanta ce n'è di Gentaglia? Adesso saranno questi Gentaglia che hanno fatto di tutto per andarsene via da anni e li tratteniamo da anni a suon di piccoli sussidi che vagono un paio, due o tre anni, chiaro che vanno in un paese in cui l'attestazione è inferiore, ce ne accorgiamo oggi. Vorrei leggere su questo Oscar Giannino, che oggi non mi sembra di aver letto su Messaggero, ma io sono sicuro, l'ho visto da alcuni tweet, che la pensa esattamente come me. Un'altra cosa che vi segnalo, nel frattempo, mentre ci preoccupiamo dei 500 posti di lavoro, per carità, è un dramma per quelle famiglie che sono persi all'Embraco. Vi segnalo che nel mondo del giornalismo ci sono 4-5 giornali qua vicino a Melano che più o meno hanno fatto 500 posti di lavoro persi, ma nessuno se ne è accorto, perché noi giornalisti poi abbiamo delle tutele forse diverse rispetto agli altri. Ma insomma, devo dire che anche lì è Gentaglia Calenda, diciamo che è anche Gentaglia i nostri editori. Ma l'altro tema fondamentale è che mentre noi stiamo qua decidendo di Embraco, in Europa l'Eurogruppo, cioè i ministri delle finanze dei 19 paesi che adottano l'Euro, che cosa hanno fatto? Hanno nominato al comitato esecutivo della BCE, che è fatto da 6 persone che decidono la politica monetaria dell'Europa, cioè una cosa fondamentale, molto più, cioè l'altro gamma importante, una è la politica fiscale e l'altra la politica monetaria, cioè quanto pago i soldi e quanto pago il welfare state, quanto pago i soldi è la politica monetaria. Bene, la politica monetaria negli ultimi anni è stata decisa da un italiano, Mario Draghi, che ci ha salvato. Martino dice attenzione perché questa grande flessibilità che ci ha dato nella politica monetaria la pagheremo nei prossimi anni. Può darsi, ma per il momento ci ha salvato. Il punto fondamentale è che nella scelta di uno dei sei che stava scadendo, franco tedeschi olandesi, cioè gli stessi che ci hanno fottuto negli ultimi anni su tutte le cariche importanti, l'ultima e quella dell'EMA, cosa hanno fatto? Hanno scelto come vicepresidente uno spagnolo e fino a qua passi. Poi si capisce perché la Spagna ha votato contro l'agenzia del farmaco in Italia, ma ha preferito l'Olanda, perché l'Olanda, la Germania e la Francia hanno votato uno spagnolo all'interno della vicepresidenza della BCE. E questo spagnolo chi è? Un ministro! Cioè i 19 ministri hanno scelto uno di loro per entrare nel borde della BCE che dovrebbe essere una banca indipendente dalla politica. Ma scusatemi, ma qua facciamo finta di nulla. E che cosa fa Pado? Zitto! Ha votato all'unanimità, perché si è riterato l'irlandese che era un banchiere centrale e hanno votato tutti per lo spagnolo, centrodestra, governo spagnolo in carica, ex banchiere della Liman. Quanto ne sa di politica monetaria? Zero. Quanto me? Esattamente quanto me. È stato nominato un ministro che da ministro si è votato ed è entrato alla BCE. Ne parla oggi il Foglio e la Bufacchi. Sono i due che parlano. Ma vi sembra questo un rischio ben superiore? Noi facciamo zitti, Padoan zitto! Questo lo pagheremo nei prossimi anni. Come oggi Embraco paghiamo oggi Embraco, come tutti gli altri li paghiamo, per le scelte del cavolo fatte di politica fiscale negli ultimi vent'anni. Nei prossimi venti pagheremo le nostre scelte assurde fatte in Europa. Perché Padoan pensa ad essere candidato, così come Martina, pensava alle primarie del PD mentre stavano mettendo, togliendo i dazzi sul riso dalla Cambogia. Fatto sarà che siamo invasi dal riso cambogiano. Il che a me va benissimo, sono contro i dazzi. C'è un piccolo dettaglio che se è possibile che nelle risaie lavorino i bambini di 12 anni in Cambogia, da noi non è possibile. Quindi mettiamoci d'accordo. Se lì possono usare prodotti chimici che da noi non è possibile usare, mettiamoci d'accordo. Perché se importiamo quel riso e lo portiamo in Italia, qualche problema ce lo dobbiamo porre. Non vuol dire essere questo protezionisti. Vuol dire ragionare. Ragionare vuol dire pensare che Padoan ieri partecipava a un Eurogruppo e forse pensava più al suo futuro politico l'anno prossimo che al futuro dell'Italia nel 2019, quando scadrà Draghi. E forse per la prima volta, dice il foglio di oggi, ma anche la Bufacchi, ci troveremo che i sei banchieri del comitato esecutivo della BCE non ci sarà più neanche un italiano. Il che vuol dire che ci faranno i cazzi loro, tedeschi, francesi, olandesi. Chiaro? Sarà questo un po' più importante oggi? Ovviamente non è rivolto a Calenda che fa il suo mestiere di Embraco, ma i giornali zitti e muti. Va bene? Tanto le scelte europee a noi interessano poco. Un tempo dicevamo che in Commissione europea mandavamo gli ultimi, oggi mandiamo Padon, che fa finta di essere il primo, ma alla fine, come si è visto, perde tutte le battaglie. Bellissimo oggi, godo come un riccio perché Woodcock finalmente va al Consiglio Superiore della Magistratura perché deve essere interrogato, perché ha un testimone, ha detto, gli ha fatto vedere il carcere dalla finestra di San Vittore, ha detto vuoi fare lì una, scusami San Vittore, vuoi fare forse una vacanza lì a Poggio Reale? Vi sembra questo l'atteggiamento di un PM nei confronti di un testimone? Per me è da paese sudamericano, anzi, sapete qual è il paese perfetto? Quello di Maduro, di cui nessuno parla, un paese in cui la gente fa la fila per mangiare perché questo è l'atteggiamento che ha un magistrato nei confronti di un testimone, fargli vedere il carcere e dirgli, vuoi fare una vacanza là? Vedremo se il CSM, cioè cane mangia cane, come disse Crepe in una recente puntata di Matrix. Ultima cosa, favoloso come sempre Panza quando parla della resistenza, varie interviste oggi, una di Cazzullo su Corriere della Sera e vari suoi pezzi sui giornali per il suo libro che esce, è la storia di un grande partigiano cattolico che in un incidente stradale muore, secondo Panza, ucciso dai comunisti, dai partigiani comunisti che non sopportavano l'idea che ci fosse un cattolico nelle file dei grandi e rispettati partigiani liguri. Tutto da leggere, ci sono state due guerre civili, dice Panza, quella che tutti conoscono e quella all'interno della resistenza tra i partigiani comunisti e quelli che comunisti non erano. Finalmente qualcuno parla della resistenza in termini sani, diversi, rispetto alla storiografia che ancora ci fa due palle così dell'Ampi per la quale ancora vediamo un racconto della guerra civile italiana a senso unico. Viva Panza, lo voglio intervistare, lo voglio portare a Matrix, spero che accetti il nostro invito, o mercoledì o venerdì, questa settimana andiamo in onda mercoledì e venerdì, perché avere Panza che ci parla della resistenza sarebbe per noi un grande onore. Radicali sono quelli che oggi in Italia si avvicinano al pensiero liberale, mi chiede Stefano Cozzolino, non lo so, io so chi sono i liberali. Anna, ciao Nicola, e Françoise dice interessante su Panza. Bene, vi do un grande saluto, vi dico che questa sera ho come sempre 105 Matrix in radio alle 19, sto partendo per Roma, la sentiamo da là e poi prepariamo la puntata di domani, perché come sapete il mercoledì c'è Matrix alle 23.30 e la settimana prossima lunedì, mercoledì e giovedì in prima serata. Ciao!